Perché il fuoco ci incanta? Il potere ipnotico del fuoco è spiegato in una ricerca americana che ha indagato la questione certificando che attorno al fuoco le conversazioni cambiano completamente di tono e di argomento. Mentre le conversazioni diurne sono per lo più centrate su questioni pratiche ed economiche, ma anche sul gossip, sulle battute, attorno al fuoco galoppa invece l'immaginazione. E a dominare su tutto sono le storie, quelle fantastiche o i racconti di vita vissuta magari enfatizzati dal narratore senza lo scopo di giudicare i protagonisti ma con l'obiettivo di comprendere i comportamenti altrui e costruire fiducia reciproca. Davanti al fuoco che arde si possono appianare i conflitti, diffondere conoscenza e insegnamenti, tramandare modelli di comportamento ma anche generare un comune sentire. Il tono e il linguaggio delle storie davanti al fuoco tende ad essere ritmico, complesso, ricco di riferimenti simbolici. Ad Andria, re dei camini, è la famiglia Loconte che vede crescere l'azienda specializzata nel settore del fuoco grazie ad un ritorno delle famiglie alla volontà di ritrovarsi attorno al focolare. Faceva famiglia, automaticamente questa cosa sta riportando le persone, le famiglie anche ad avere anche nel quotidiano questi momenti di intimità anche familiari e noi siamo ben contenti di dare questo aiuto anche alle persone che comunque si accingono a prendere in considerazione il fuoco. Il fuoco è diventata la specializzazione della famiglia a metà degli anni 90, quando dalle forniture per la realizzazione di abitazioni civili i Loconte hanno cominciato a sviluppare il settore. Abbiamo cominciato con delle stufe a pellet e quindi era quello che al momento la gente chiedeva ed era comunque un prodotto innovativo. Ovviamente nell'andare avanti ci siamo resi conto che il mondo del fuoco è talmente ampio e quindi avevamo bisogno necessariamente di allargare anche l'offerta. Abbiamo cominciato in sordina con questa attività cercando prima di specializzarsi nel settore, quindi ovviamente organizzare anche montaggi, organizzare anche le vendite e quindi automaticamente le cose ora nel crescere siamo arrivati al punto di crescere anche a livello espositivo. Quindi passiamo da una sala mostra di circa 50 metri dove automaticamente la cosa andava in un segmento molto molto ristretto. Ora ci siamo allargati un po' nell'ambito del fuoco toccando tutto quello che c'è da toccare nel settore. Oggi il fuoco non è più solo nel camino, è una installazione scenica che può entrare in qualsiasi tipo di casa. Ci sono nuovi prodotti che in questa nuova sala mostra abbiamo voluto dedicare molto spazio per questi prodotti proprio perché non hanno necessità di canna fumaria, non sporcano, non inquinano anche, sono molto comodi da gestire, si va sui camini elettrici arrivando poi al bioetanolo o anche caminette a gas in particolare. Cosa che abbiamo voluto fare nella nuova sede è dedicarci soprattutto al discorso dell'arredamento anche, quindi proporre al cliente finale dei prodotti finiti in pratica. Quindi se uno ha intenzione di arredare una parete attrezzata X può dedicare con noi il suo tempo progettando poi il suo camino, quindi la sua parete attrezzata con camino. Ma il fuoco non perde la sua funzione principale che è quella di riscaldare. I termocamini arredano e riscaldano, mentre le stufe a pallet sono elementi sempre più presenti nelle abitazioni perché consentono un notevole risparmio economico rispetto al riscaldamento ottenuto con gli impianti a gas. Le stufe a pallet vengono scelte soprattutto per il discorso del risparmio che si aggira rispetto al gas metano standard intorno al 30% in meno rispetto al gas, come dicevo. La legna invece è considerata ad ora la fonte più economica disponibile che si aggira intorno al 60% in meno di risparmio. E non si tratta solo di una scelta green. L'utilizzo di questi strumenti per il riscaldamento è incentivato dallo Stato. Cosa molto importante è che tutti questi prodotti sono agevolati dallo Stato, tutti con detrazioni fiscali del 50% o addirittura su prodotti che hanno la possibilità di essere sostituiti a vecchi generatori arrivare fino al massimo del 65% di risparmio. Tutti questi prodotti naturalmente presso di noi possono essere acquistati tutti anche in comoderate, tranquillamente, anche con finanziamento a tasso zero. Giardini e persino balconi sono luoghi ideali per l'installazione di elementi che al fuoco uniscono la cucina. Bracci di ogni tipo possono essere installate anche su un piccolo balcone, anche se quelle in stile America hanno un impatto visivo non indifferente. Per i forni da pizza invece domina il made in Italy. L'arredo giardino, quello è un nuovo segmento che abbiamo voluto intraprendere anche sul discorso della cottura sull'esterno, quindi su barbecue ci siamo legati soprattutto a aziende numero uno in Italia e nel mondo, soprattutto ritiriamo direttamente dall'America e dal Canada dei prodotti per la cottura di carni e non solo, forni per pizze, quelli naturalmente è tutta roba italiana e ci stiamo dedicando anche a questo settore qua.